Il suo giudizio sulla voce di petto Non esiste voce di petto Sfido chiunque a dirmi che esiste una voce di petto Non ho mai usato la voce di petto Come la quick click Questa non è voce di petto E voce sul sostegno del fiato E erano tutti contro l'usanza della voce di petto Proprio loro? Sì Proprio loro che per tutta la vita hanno usato la voce di petto Grazie